Buongiorno a tutti, siamo in Rizoma e sono lieto di presentarvi una bellissima realtà italiana. Lasciate che mi presenti, sono Alessandro Taglioretti e per Rizoma seguo il mercato italiano. Che cos'è Rizoma? Rizoma è un'azienda di design che produce accessori per moto in alluminio e ricavati dal pieno. Per noi l'attenzione alla qualità e alla soddisfazione dei nostri clienti è veramente la cosa più importante. A questo punto lasciate che vi mostri con che cura realizziamo i nostri prodotti. È sempre interessante conoscere i procedimenti di lavorazione partendo dalla materia prima, arrivando al prodotto semilavorato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una volta raggiunto il nostro magazzino, il prodotto è pronto per essere spedito in tutto il mondo.